Ho cucinato le cipolle rosse sfruttando la soft cooking 2, inserendole all'interno del sacchetto termico solo con un filo d'olio, un cucchiaio di aceto di vino bianco e dello zucchero di canna per voler ottenere un effetto quasi caramellato. La cottura infrarosso è una tecnica molto antica, paragonabile a quello che è il calore della brace che genera infrarosso. CB ha preso spunto da questo tipo di cottura, semplicemente con la cooking innovation andando ad automatizzare totalmente quello che è il movimento. Ho deciso di cuocere la costina in modalità soft 2 perché mi permette di ottenere un risultato molto morbido e quindi utilizzando questo tipo di cottura andare a sciogliere quello che è il collagene e i grassi all'interno della costina. Nella cooking innovation non abbiamo il controllo della temperatura all'interno della camera perché è la macchina che lo fa in modo totalmente autonomo e automatico. Abbiamo la possibilità di gestire singolarmente le cotture all'interno della camera. Ogni singola asta all'interno è numerata e abbiamo una programmazione per ognuna di esse. Nella cottura infrarosso modulato non abbiamo ventilazione, abbiamo quindi un calore statico. Tutto ciò che noi andiamo a cucinare all'interno della camera va a cucinare con i suoi stessi succhi e quindi con i suoi stessi grassi nel caso delle carni. Il vantaggio grosso sulle verdure intere per esempio o sulle carni va a mantenere molto quelli che sono i liquidi all'interno dell'alimento. Il prodotto rimane molto più umido e molto più piacevole al consumo. Per la cottura infrarosso utilizziamo degli attrezzi che si adattano ad ogni tipo di forma del prodotto che noi vogliamo andare a cucinare. Quindi partendo dall'attrezzo piatto, dall'attrezzo bombato abbiamo un attrezzo diametro 10 per arrosti, pezzi di carne piuttosto che anche per le verdure intere fino a una svariata serie di altri attrezzi che possono anche essere combinati tra di loro. La cottura infrarosso modulato ci consente anche quindi mantenendo quelli che sono i liquidi del prodotto di andare a ottenere un prodotto finale con un calo peso decisamente inferiore. Il risultato finale è una costina dove l'osso si sfila perfettamente solamente utilizzando le mani. In fase di impiattamento ho disposto della senape sulla base del piatto alternato dei cubi di costina e dei ciuffetti di cipolle rosse caramellate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.